ciao vivis e benvenuti sul nostro canale youtube il mio nome è carmi e siamo qui riuniti oggi per pittarci con i miei preferiti di sempre e per sempre prodotti che conosco ormai da anni che uso da anni e più e più volte ho riacquistato ultimamente siamo un partiti con questa serie di prodotti low cost 5 10 euro la settimana scorso ho fatto una full face da 533 euro e 30 se vi siete persi quel video date un'occhiata perché era pure entertainment ma oggi vi mostro quali sono quei prodotti che io personalmente mi fido mi fido completamente so che quando mi trucco rimane e soprattutto ha sempre quel bel risultato quindi without further ado come si dice in inglese quindi senza perderci troppo in ghiacchiere facciamo un bel sorseggio prima cosa essenziale della mia vita e poi ci pittiamo con i prefe di sempre e per sempre non ho capito ancora questo titolo e non lo capirò mai partiamo subito con il primer e qui vorrei subito dirvi anche che ci sarà un mix tra prodotti high end e prodotti low cost quindi aspettatevi un po di tutto e infatti come primer quello che io personalmente prediligo in assoluto è se dovessi scegliere solo un primer nella mia collezione huda water jelly perché per chi ha la pelle tanto tanto secca come la mia e soprattutto dopo anche essermi appena rasato ho bisogno di idratazione ho bisogno di acqua su questa faccia e questo primer è fenomenale perché non solo veramente fa quell'effetto radiant clumping ma anche è favoloso per quando poi applico il mio makeup e noto tanta differenza personalmente io la noto e questa cosa mi piace assai per quanto riguarda il fondotinta ne ho tanti devo dirvi la verità ci sono un paio che io amo ma ce n'è uno e voi lo conoscete perché ve ne ho parlato all'infinità e ogni volta che vengo in italia me l'ho riaccatto e infatti è the universal di astra c'è questo fondotinta credo costi intorno ai 9 99 o forse 11 99 adesso no i'm not sure non sono sicuro ma questo fondotinta è la mia vita assolutamente favoloso si stende benissimo ma soprattutto è bella la coprenza ma è molto elastico e questo vuol dire che se durante il giorno o quella piccola ricrescita di barba il fondotinta non si separa per niente ho visto anche tante persone utilizzarlo con pelle acneica e sembrerebbe anche in quel caso dare un bellissimo effetto senza appesantire e non lo so io personalmente trovo che questo fondotinta è fenomenale poi non lo so voi fatemi sapere perché so che tanti di voi l'hanno acquistato tanti voi lo usano e vorrei anche sapere i vostri feedback su quali sono i vostri prodotti preferiti di sempre per sempre decisione molto difficile almeno per quanto mi riguarda è correttore perché in verità ne ho due che io amo alla follia il primo è secondo me perfetto per il nostro sott'occhi il nostro under eye illumina copre è molto leggero e se avete delle fine line quindi delle piccole rughette come ho anch'io è normale stiamo crescendo stiamo evolvendo la nostra vita e non volete che si notino questo correttore sempre di astra pure beauty è fenomenale perché è meraviglioso non c'è niente da dire io adorerò sempre i prodotti pure beauty di astra perché sono super performanti però se come me avete un pochettino di barba e ogni tanto vi piace coprirla o avete quel brufoletto che il fondotinta non riesce a coprire completamente e quindi volete un bel correttore power io personalmente trovo che il ristretto di neve sia un signor correttore non mi dispiace anche nel under eye sinceramente lo trovo comunque un bel correttore si setta abbastanza velocemente e il che vuol dire che ha anche quell'effetto un pochettino più opaco quindi dovete scegliere se volete un correttore illuminante naturale o un correttore un pochettino più non lo so ristretto un po più deciso questo però è fenomenale in quanto una volta applicato non si muove più e io infatti lo prediligo diciamo sul mio vento sulla mia barbetta qua sul mio mustascio che non vado a mettere in abbondanza e ogni tanto faccio tipo un paio di reghette anche qui sulla barba non sono una di quelle persone che dico oddio se si vede la barba non esco di casa anzi però se volete qualcosa di più coprente con un effetto natural matte cioè guardate qui super levigato è bellissimo mentre adesso vi faccio vedere anche l'effetto del correttore under eye quindi andiamo piano piano a sfumare il tutto guardate qua è leggermente più sottile si nota la differenza si nota quanto sotto i miei occhi sia proprio sottile un po più luminoso sul mento è bello deciso quindi completamente dipende da voi da che cosa vi piace di più ogni tanto un mix di due prodotti fa la differenza per quanto riguarda il contouring sicuramente uno dei prodotti che mi avete visto utilizzare più in assoluto è il contouring di KVD in quanto vi ho sempre detto quanto adoro la formula è un contouring in gel e il che vuol dire che non si attacca troppo alla pelle se avete discromie o comunque se avete tanta skin texture non va in evidenza ma diventa quasi come una leggera patina al di sopra è facilissimo da utilizzare trovo veramente difficile metterne troppo in quanto si sfuma velocissimamente senza problemi anche se non siete veloci diciamo nello sfumare i vostri prodotti non si asciuga in fretta quindi non c'è bisogno che andiate in versione panico più totale quindi vi faccio vedere qua ne metto un pochettino sembra scuro all'inizio e dite è abbastanza intenso pronunciato in verità vi vi guardate qui una volta che ho utilizzato il vostro pennello si sfuma in due secondi è fenomenale la cosa che mi piace di più è proprio quanto sia facile da applicare e quanto si sfumi benissimo e dà un bel effetto è un po caldo quindi deve piacervi il contouring un po più abbronzato un po più bronzi io personalmente lo prediligo in quanto col mio incarnato se vado a utilizzare un contouring diciamo classico quindi tanto grigio mi spegne parecchio trovo che mi dia quasi quell'effetto di malaticcio mentre un contouring caldo quasi leggermente bronzato lo trovo più adatto più idoneo per la mia pelle rimanendo in tema di contouring caldo comunque di effetto molto alla gel o molto abbronzato il mio blush assoluto preferito di sempre è Log Lady i blushi di By Basic Gaia facilissimi da sfumare hanno un bellissimo pigmento e vi ho sempre detto che questi se siete agli inizi e spesso vi capita di esagerare col blush e rimangono con le chiazze questi non lo fanno questi si sfumano benissimo ci sono di tanti colori e potete scegliere assolutamente quale colore sottotono vi piace di più io personalmente trovo che questo sia fenomenale ogni tanto vi ammetto lo uso anche come un velocissimo contouring in quanto il colore come potete vedere è molto molto caldo ma guardate che bell'effetto che dà sulla pelle è uno stick ma la cosa meravigliosa è che non va a separare il fondotinta sotto il correttore utilizzatelo naturalmente prima di incipriare il tutto perché se no naturalmente se utilizzate uno stick con una polvere sotto si va un pochettino a muovere ma se fate questo step in precedenza guardate qua molto molto carino ed ha giusto quel po' di colore che ci piace questo in estate è assolutamente il mio prodotto preferito velocissimo anche da utilizzare con le dita lo metti e via ma trovo che anche adesso che viene la soggiore un pochettino più fredda e iniziamo a perdere il nostro bellissimo summer tan il nostro colorito di estivo questo aiuta a farci sembrare un pochettino più healthy più glow ma passiamo adesso a cipria e non credo ci sia bisogno che ve lo dica perché questa è la cipria col buco più grande del mondo ormai è un buco nero ed è quella di Charlotte Tilbury una cipria fenomenale molto costosa ma sa il fatto suo e infatti aiuta tantissimo a levigare soprattutto per chi non vuole poi utilizzare tanti prodotti durante il giorno per fare diciamo l'up keep del makeup io sono una di quelle persone che se mi trucco la mattina non voglio più pensarci durante il giorno non mi piace ogni volta andare a controllarmi che il fondotinta stia bene o devo aggiungere un po' di blush io una volta che mi trucco basta poi ci vediamo la sera che ci strucchiamo certo qualche volta arrivo a fine serata che sembro un mostriciattolo però anche la bellezza dei mostriciattoli comunque questo prodotto qua questa cipria soprattutto per settare la mia T-zone quindi la parte dove sudo un pochettino di più qui il mio mostaccio suda che è una meraviglia aiuta parecchio ed è chef kiss e infine per concludere la nostra pelle l'illuminante che personalmente io prediligo in quanto mi piace tantissimo la finish, il texture e soprattutto come illumina senza però accentuare la grana della pelle che per un illuminante non è sempre facile vado a prendere questo qui di Nabla che è Amnesia ed è favoloso se dovete scegliere un illuminante scegliete un illuminante che o abbia una texture molto simile quindi quasi in gel quasi cremosa oppure quelli mineral che sono ancora una volta molto molto belli e illuminano parecchio quei vecchi illuminanti quasi da ombretto sinceramente trovo molto difficile utilizzarli e soprattutto se si ha una pelle fresca come una rosa se si ha 14-15 anni e si vuole mettere un po' l'illuminante quelli vanno benissimo però per chi come me che sta arrivando a metà degli anni 30 abbiamo bisogno di qualcosa che sia un po' più appropriato per le nostre esigenze ho fatto velocissimamente le mie sopracciglia off camera per due ragioni e adesso vi dico velocissimamente la prima è perché attualmente la mia matita il prodotto che amo di più in assoluto non è in mio possesso e sto parlando della Gasha Brow di Astra devo ritornare in Italia a fare un bel acquisto di una decina di queste matite perché poi rimango così verso ottobre, novembre, dicembre che non so più dove andare a bar cioè veramente io sto utilizzando qualsiasi prodotto nella mia collezione sto finendo matite che non pensavo di finire solo perché mi manca tantissimo quella che amo di più in assoluto e secondo è anche perché sto cambiando leggermente le mie sopracciglia in quanto le sto facendo crescere un pochettino di più ma non sono sicuro se questa cosa mi piace forse certe volte le trovo un po' invadenti cioè veramente sembrano due peluche un goppa a sta faccia quindi non lo so fatemi sapere se preferite quando le mie sopracciglia erano un po' più sottili aiutatevi a fare a decidere della mia vita e delle mie sopracciglia perché attualmente sono abbastanza perplesso ma parliamo dell'eye shadow palette ce ne sono davvero tante della mia collezione tantissime che io amo ci sono naturalmente quelle che in passato ho fatto anch'io in diverse collaborazioni con Revolution con Mom però se c'è un eyeshadow palette che amo in assoluto che è attualmente veramente quella che io prediligo di più in assoluto è la Sample Beauty e vi spiego perché i colori all'interno sono bellissimi ma soprattutto trovo che anche certe volte utilizzare solo uno shimmer su tutta la mia palpebra e poi mettere naturalmente eyeliner e mascara dia un effetto straordinario la mia combo in assoluto sono questi viola rosa con questo shimmer qui perché adesso vi mostro faremo quello io amo di più in assoluto quindi andiamo velocissimamente prendiamo Cherry qui togliamo l'eccesso e andiamo ad aggiungerlo nella parte esterna come base ho semplicemente utilizzato il correttore quindi non abbiamo nulla di speciale ma vi faccio vedere come si sfuma meravigliosamente stesso colore ma un pennello diciamo un po' più da definizione e vado nella parte inferiore e inizio piano piano ad aggiungerlo su tutto diciamo il nostro under eye sulla rima inferiore e la cosa che mi piace tantissimo è che anche quando lo si afflica si sfuma meravigliosamente cioè fa tutto da solo adesso però vado a pescare un altro pennello posso prendere uno di questi leggermente più ampio e prendo questo colore che si chiama day quindi molto molto più chiaro tolgo l'eccesso e lo vado a sfumare nella parte più alta così da fare quella transition meravigliosa ritornerò poi successivamente con cherry e dare un po' più di definizione quindi intensificare nuovamente la nostra crease però è importante utilizzare questo colore per sfumare e fare questo extra step sia sopra che poi naturalmente anche un pizzichino sotto arriviamo adesso al nostro shimmer e infatti vado ad utilizzare sweet lo prendo direttamente con le dita perché performa sicuramente meglio e vi mostro una volta applicato guardate che riflessi meravigliosi cioè questo questo è il mio ombretto cioè con questo io mi voglio sposare voglio avere una famiglia un futuro perché ha tutto quello di cui ho bisogno è burroso super super performante è veramente fantastico ogni volta che lo metto c'è sempre qualcuno che mi chiede che cosa hai messo sugli occhi il mio ombretto cioè questo è il mio ombretto deciso basta finita qui arriviamo adesso a un momento molto delicato della nostra routine quello del eyeliner e questa è una scoperta che è veramente avvenuta grazie a voi in quanto tantissimi due mi hanno scritto carmi è il mio eyeliner preferito e io ho detto se è il vostro preferito lo sarà anche per me e credetemi avevate ragione NYX Epic Ink Liner è bellissimo ha una pigmentazione straordinaria ma la cosa che mi piace di più è che non solo appena applicato è bello nero bello opaco ma non si muove avete presente certe volte quegli eyeliner che sono un po' troppo acquosi e quindi vanno diciamo a migrare verso l'interno oppure dopo qualche ora iniziano quasi a trasferirsi soprattutto nella parte superiore se abbiamo un pochettino quella palpebra cadente o comunque un hooded high questo no una volta che si setta rimane esattamente lì dove deve rimanere e vi mostro subito guardate qui con quanta facilità si può applicare naturalmente sugli shimmer vanno fatte un paio di passate perché è normale però sui matt è veramente stupendo e qui potete vedere come fa subito questo nostro eyeliner facciamo anche una bella flick veloce veloce la chiudiamo qui ok andiamo a colorarla per bene all'interno molto veloce naturalmente ci vuole un po' di pratica come tutto però per un eyeliner del genere io lo adoro cioè io questo lo riacquisterò finché non lo levano dal commercio perché non c'è veramente di meglio con questa qualità e con questo prezzo perfetto il nostro eyeliner è stato applicato e io vi devo dire che sinceramente oggi abbiamo fatto un bel lavoro ma prima di passare al nostro mascara ed è un signor mascara vi voglio mostrare un prodotto che alcuni di voi forse se mi conoscono se mi seguono da un po' sanno che io utilizzo spesso in quanto io amo amo alla follia i glitter ma li detesto anche equalmente in quanto trovo che i glitter soprattutto quelli loose quelli in forma libera siano bellissimi ma vanno ovunque non solo ci ritroviamo per casa per giorni ma anche quando li applichiamo sono davvero tanto difficili da posizionare dove vogliamo senza fallout senza che vadano in giro e poi ci sul nostro sott'occhi sulle labbra sul naso go passader io adoro i glitter versione eyeliner e questi soprattutto di w7 sono i miei preferiti perché non solo sono glitter belli ma costano pochissimo sono tipo 2-3 euro spesso li si trovano su notino se non sbaglio ma se riuscite ad acquistarli credetemi non ve ne pentirete questo è il mio preferito iridescent perché non solo ha una base trasparente ma ha dei riflessi che vanno dall'azzurrino un pochettino ma sul verde e se avete un incarnato simile al mio i riflessi verdi sono meravigliosi quindi vi mostro subito una volta applicati qui sopra guardate che meraviglia fanno e certe volte veramente i glitter possono trasformare un look completamente cioè l'eyeshadow sotto era bello ma adesso con il glitter sembra molto molto di più e si riescono quasi a fare quelle finte cut crease ma senza spenderci ore a mettere correttore fare tutte quelle cose no voi se avete un glitter liquido e quindi riuscite a manovrarlo bene riuscite tranquillamente a fare lo stesso effetto ma ci mettete un quarto del tempo anzi sicuramente molto molto meno e qui abbiamo il nostro glitterino state attenti naturalmente essendo il liquido si deve settare quindi non andate subito a strofinare i vostri occhi o a chiuderli in maniera troppo decisiva ma se piano piano lasciate che il glitter si asciughi veramente fa un effetto meraviglioso quindi io adesso aspetto che si asciughi completamente vado poi con il mio classico piegaciglie e come mascara il black bubble di neve è un signor mascara e vi mostro anche il perché lo scovolino che è a clessidra o a 8 come lo chiamo io riesce davvero tanto ad allungare le nostre ciglia soprattutto quelle interne e quelle esterne è pigmentato il giusto perché è bello nero ma non non c'ho difficoltà nel struccarlo perché a certe volte ci sono dei mascara che sono bellissimi ma sono difficili da struccarsi questo invece non solo da lunghezza proprio da quell'effetto bello curvo ma è anche facile poi quando bisogna rimuoverlo che si rimuove quindi aspetto che questi glitterini si asciughino e poi mascara e passiamo alle labbra e la labbra la labbra le labbra super low cost ma low cost ma quello fatto bene eccoci qua seconda passata di mascara bello bello e vi mostro se mi giro di lato spero si possa notare quanto abbia incurvato ma soprattutto quanto abbia dato quel drama che personalmente ci piace ma come vi ho promesso prodotti labbra estremamente low cost ma sono anche prodotti labbra che ricevo spesso complimenti in quanto veramente tutti pensano che siano super costosi la verità costano pochissimo infatti ho qui con me essence essenza essenza del make up la matita questa qua è la 8 hour lip liner in 01 curious è un nude favoloso leggermente rosato ma proprio pochissimo e si applica benissimo super scorrevole questa è una cosa che ci piace assai e se avete bisogno dall'altra parte c'è anche tipo il mini temperino per fare la punta devo ammettermi che difficilmente lo utilizzo perché è veramente una bella mina e riesco a dare tutto quello di cui ho bisogno quindi qua abbiamo delineato le nostre ladra mentre come rossetto non è un vero è proprio rossetto che basta devo smettere di distrarmi non è un vero e proprio rossetto ma è un gloss rimpolpante super specchiato big softy quante volte vi ho parlato di big softy questo è il planting nude lip gloss non è veramente planting nel senso che non brucia non dà quell'effetto diciamo da peperoncino assolutamente ma è un gloss da 2-3 euro con un effetto così bello io tranquillamente lo riapplico senza nessun problema infatti che vi faccio vedere quanto è meraviglio cioè proprio guardate la luce che dà questo gloss fenomenale fenomenale ed eccoci qua vivis questo è il nostro lucarello completo e devo ammettervi io personalmente lo amo da impazzire la pelle la trovo meravigliosa in quanto non solo sono riuscito a dare un pochettino di definizione ma la trovo super leggera non è assolutamente pesante e so conoscendo questi prodotti che mi durerà tutto il giorno senza alcun problema le labbra sono succulente sono deliziose naturalmente come vi dicevo e se non gloss va un pochettino riapplicato durante il giorno ma ci sta ancora una volta per il prezzo e per diciamo l'effetto io non ho nessun problema mentre gli occhi che vi posso dire sono sicuramente come si dice in inglese a statement cioè sono abbastanza prepotenti sono lì proprio non sono da tutti i giorni però chi lo sa cioè se questo è il make up che vi piace utilizzare tutto il giorno per andare al supermercato a cattare banane mandarini e kiwi fatelo chi vi dice niente se qualcuno dice qualcosa ma chi ti ascolta ma va a fare mucca quindi io spero tantissimo il suo video vi sia piaciuto non sono sicuro che cosa farò per la settimana prossima quindi vi prego aspetto i vostri suggerimenti giù nei commenti vi va un video novità make up vi va un video di qualche altro genere non lo so fatemi sapere perché io non ho la più pallida idea di che cosa farò la settimana prossima ma l'unica cosa che è proprio certezza è che sarò qui con voi a pittarmi e a sorseggiare tanto buon caffè quindi come dico sempre always remember like if you like hate if you hate and until next time you're welcome e grazie per essere stati qui con me mi raccomando thumbs up iscrivetevi e tutto il resto che io mi dimentico sempre di dirlo bye ciao Ciao